Paolo Tofoli e Simone Roscini, due stelle del firmamento pallavolistico. Quali sono le emozioni di condurre questa squadra insieme nella vostra città? Le emozioni sono tante. Ritorno a casa con gente che conosco da tantissimo tempo, gente con cui sono andato a scuola. Non sarà facile perché c'è il detto che nessuno è profeta in patria, però io ce la metterò tutta e sono sicuro che faremo bene. Anche per me chiaramente è stata una bella cosa il fatto che Paolo quest'anno è ritornato a casa. Ho l'occasione di lavorare con un amico che conosco da una vita e quindi penso che il lavoro ne possa trarre solo beneficio. Quali sono le esperienze mondiali che credi di poter portare in una realtà come quella fanese? Sono cose passate mie. Ho esperienze dal punto di vista del gioco, tante manifestazioni a livello mondiale. Questa è la realtà di Fano, è un A3. Sicuramente a Fano si è sempre rispirata pallavolo, pallavolo di un certo livello. Infatti io spero di portare, di vedere questo palazzetto pieno, sempre pieno ogni partita e ricreare l'entusiasmo. Dopo, sai, naturalmente vincere non è facile perché anche noi siamo nel giro nel sud, ci sono tante squadre buone, tante squadre forti, quindi vincere e salire sarà difficilissimo. Però noi ce la metteremo tutta. È importante ricreare l'entusiasmo e portare tanta gente qui in questo palazzetto qui. Speriamo di riuscire ad avere il palazzetto sempre bello caldo perché chiaramente giocare davanti a tanta gente è piacevole e dà grossi stimoli. Quindi chiaramente sappiamo che per poter far venire più gente possibile bisogna vincere le partite. È quella la medicina solita e quindi cerchiamo di fare delle belle partite e avere il palazzetto sempre pieno. Sperto sul!